E adesso inizia la descripzione Puelle, ma in questo caso sarà una descrizione completamente rovesciata, ribaltata. La classica descrizione della donna petrarchesca, che appartiene alla letteratura italiana, viene adesso deliricizzata, abbassata e notevolmente ridimensionata, oltre che ad essere capovolta. Sei quasi brutta, priva di lusinga, nelle tue vesti quasi campagnole. Quindi sentite, qui neanche esalta la bellezza, non ci prova nemmeno, qui esalta invece la sua bruttezza. Ed è quasi una donna di campagna, non siamo più in città. Notate sempre nella poesia il contrasto tra la vita artificiosa di città e quella invece campagnola, bassa, umile di provincia. Ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole, attorti minutissime tricciuole, ti fanno un tipo di beltà fiamminga. E rivedo la tua bocca vermiglia, la tua bocca rossa, così larga nel ridere e nel bere, e il volto quadro, senza sopracciglia, tutto sparso dei feli di leggere, quindi di leggere lentiggini che si vedono un po' sparse in tutto il volto, e gli occhi fermi, liridi sincere, azzurre, d'un azzurro di stoviglia. Non è più quel bel azzurro intenso, lucente, della donna letteraria, della donna anche petrarchesca, ma ora è un azzurro di stoviglia. Di nuovo la deliricizzazione, di nuovo un enorme abbassamento lirico, perché adesso viene accostata addirittura a quelle stoviglie che poi laverà e metterà da parte. Non c'è più quello spirito celeste, quel vivo sole di Petrarca, ma una semplice casalinga, una campagnola, una donna di provincia. Potremmo dire un po' alla Madame Bovary, insomma una donna che vive lontano dalla città. Tu mai amato? Nei begli occhi fermi rideva una blandizie femminina. Notate l'uso accorto delle parole, perché al discorso diretto, a questi accostamenti estremamente bassi e deliricizzanti, accosta anche dei termini aulici, termini rari, particolari e soprattutto desueti. Una civetteria femminina lo seduce, cerca di piacerli, prova anche a nascondere questa sua civetteria, ma non ci riesce fino in fondo. Tu civettavi con sottili schermi, tu volevi piacermi, signorina, e più d'ogni conquista cittadina mi lusingò quel tuo voler piacermi. Interessante la chiusura di questa strofa, quel tuo voler piacermi, è una ripresa dal Paradiso di Dante al canto numero 9, ed è interessante perché qui Gozzano utilizza una citazione aulica elevata, tra l'altro presa proprio dal Paradiso, quindi dalla cantica in cui Dante sfoggia il meglio di sé dal punto di vista linguistico, ma viene abbassata per descrivere questa goffa civetteria di una semplice campagnola. Notate il continuo gioco di contrasti. Interessante quel tu volevi piacermi a tutti i costi, l'abbiamo già detto anche nella prima lezione, nella prima parte di questa poesia. Lui vorrebbe essere come lei, vorrebbe inserirsi in quel mondo, ma lui non ne fa parte, perché è un poeta, è un artista, e l'artista viene rifiutato, viene emarginato dalla società del secondo ottocento, dalla seconda rivoluzione industriale, perché non produce un utile e pertanto è inutile. Ogni giorno salivo alla tua volta per il soleggiato ripido sentiero. Il farmacista non pensò davvero un'amicizia così bene accolta, quando ti presentò la prima volta l'ignoto villeggiante forestiero. Nemmeno il farmacista pensò che da questo nostro incontro sarebbe poi potuta nascere un'amicizia così profonda, così intensa, tanto addirittura da innamorarsi l'uno dell'altra. Talora, già la mensa era imbandita, mi trattenevi a cena. Eccolo qui, lui la va a trovare, delle volte si ferma anche a cena. Era una cena d'altri tempi, notate quel d'altri tempi, tempi andati, tempi perduti che non ritorneranno mai più. Col gatto e la falena e la stoviglia semplice e fiorita e il commento dei cibi e maddalena decrepita e la siesta e la partita. Notate questo enorme accumulo in polissindeto. E sono tutte le piccole cose, la falena, il gatto, questa maddalena che è semplicemente la domestica, lo capiremo tra poco, per la partita verso 21 ore, cioè alle 21, giungeva tutto l'inclito collegio politico locale. Qui notate l'uso pomposo, solenne di questo tono, che in realtà è chiaramente ironico. È un contrasto netto tra la città e la combriccola dei personaggi illustri, importanti, famosi della campagna, quindi della provincia, il molto regio notaio, il signor sindaco, il dottore, quindi tutti i personaggi famosi e importanti di una cittadina di provincia, di un paesotto di provincia, quella borghesia che conta il sindaco, il notaio e il dottore. Ma poiché trasognato giocatore, quei signori mi avevano in dispregio, mi disprezzavano perché in questa poesia dice io ero un giocatore trasognato, cioè ero distratto, ero immerso nei miei sogni, nei miei pensieri, ma se è distratto chiaramente è un cattivo giocatore. Loro lo disprezzano non tanto perché non sappia giocare bene, ma per essere un poeta. Lui non è un borghese, lui non produce alcun utile, pertanto è inutile perché è un poeta. Ecco l'inetto, ecco l'inettitudine che poi sfocerà nella psicanalisi di Italo Svevo, di Sigmund Freud. Vedete come sia tutto collegato, quindi anche per l'esame potete davvero portare tantissimi collegamenti anche per l'orale. Ma era più dolce starmene in cucina tra le stoviglie a vividi colori, cioè io preferivo starmene in disparte. Il poeta preferisce sempre la solitudine, l'isolamento, perché in quel modo lui può riflettere sui propri pensieri, sui propri sentimenti, su ciò che davvero sente e percepisce e che agli altri è ovviamente precluso. Tu tacevi, tacevo signorina, notate la letterazione della lettera T, godevo quel silenzio e quegli odori, tanto, tanto per me consolatori, di basilico, d'aglio e di cedrina. Le piccole cose, le umili tamerici, direbbe Giovanni Pascoli. Quella cedrina è un'erba aromatica che profuma di limone ed è interessante perché lui gode e si bea in questo silenzio, osserva la sua amata ed è felice così, senza tante parole, senza tante chiacchiere e respira a pieni polmoni gli odori semplici di un luogo di campagna, di un luogo lontano, l'isolamento e la solitudine, il mondo appartato, lontano dai pregiudizi e dagli scherni di una società che non lo accetta più. Maddalena, con sordo brontolio, disponeva gli arredi ben detersi, quindi riponeva tutte le stoviglie ben lavate, rigovernava lentamente, quindi qui viene di nuovo ripresa quella Maddalena di prima, è la governante, ed io, già smarrito nei sogni più diversi, e qui riprende quel trassognato di prima, accordavo le sillabe dei versi sul ritmo uguale della ciotolio. Qui è anche un'altra dichiarazione di poetica, ci sta dicendo quello che fa solitamente il poeta, è una poesia semplice di tutti i giorni, qui D'Annunzio non c'è più, è sparito per sempre, vi ricordate cosa diceva D'Annunzio? Lo vedremo, il verso è tutto, la forma è decisamente più importante del contenuto, il verso è tutto. Qui invece ci sta dicendo l'esatto contrario, il poeta, io accordavo le sillabe dei versi sul ritmo uguale della ciotolio, è una poesia estremamente deliricizzata, tutto viene abbassato, il tono stesso è un tono colloquiale, è un tono medio, basso, quotidiano, sotto l'immensa cappa del camino, in me rivive l'anima ad un cuoco forse, e qui vedete, notate che il pensiero è messo tra parentesi, perché di nuovo lui è trassognato, e quindi la sua mente si perde in migliaia di fantasticherie, perché il poeta è fatto così, è completamente distaccato dalla realtà, godevo il sibilo del fuoco, la canzone di un grillo canterino mi diceva parole a poco a poco e vedevo Pinocchio e il mio destino, e in quel momento, mentre tutto tace, mentre si sta rilassando davanti al fuoco, sente la canzone di un grillo e quel grillo gli richiama alla mente subito l'immagine di Pinocchio, Carlo Collodi, la storia di Pinocchio, quel burattino che desiderava ardentemente diventare un bambino vero, quindi anche lui sognava una vita che non era la sua, sognava la vita di qualcun altro, la vita di tutti, di tutti i giorni, una vita normale, perché il poeta ha un dono e quel dono però è anche una croce, una sofferenza, perché come diceva anche Truman Capote, quando Dio ti dà un dono ti dà anche una frusta, c'è sempre un prezzo da pagare e lui vorrebbe essere ciò che non è, cioè una persona comune come tutti gli altri, avere una vita semplice ma finalmente inserito nella società, accolto e accettato da tutti. Come tutti i poeti che si rispettino, lui non ha ancora perso la sua funzione di poeta Vate, lui riesce ancora a vedere oltre il velo di Maya, vede al di là della semplice materialità e quindi sa già come sarà la propria vita, vedevo questa vita che mi avanza, cioè vedevo ciò che mi restava della vita da vivere, vedevo, quindi è uno spettatore, è colui che sa, che conosce già il proprio destino ma non ci può fare niente perché non lo può cambiare, chiudevo gli occhi nei presagi grevi, notiamo l'uso delle parole, questo aggettivo, un presagio greve, cioè pesante, opprimente, asfissiante ma anche doloroso, qualcosa cioè che causa un grande dolore e un senso di oppressione, quindi sicuramente una vita non comoda, non facile, aprivo gli occhi, tu mi sorridevi ed ecco lui rifioriva la speranza, la speranza è data proprio da quel sorriso, da quella donna che lui ha trovato in mezzo a tutte le altre, quella donna, quella persona, quindi quell'ideale di speranza, di fede, di fiducia nel futuro che però non si realizzerà mai e infatti lui non la sposa, non rimane lì con lei ma poi se ne andrà e la lascerà lì, quindi in realtà la signorina felicità è l'incarnazione di una sua speranza, il poeta proietta fuori di sé ciò che sente nelle viscere della propria anima ma non può farci nulla perché non può cambiare il presente, la vita che m'avanza, il fatto che mi resti qualcosa ancora da vivere, altra ripresa da Petrarca, la trovate sia nell'RVF 365 12 e in RVF 168 14, di nuovo riprende la lirica tradizionale, la poesia letteraria italiana ma sempre per contrasto, per ribaltare però i topoi classici, l'abbiamo visto anche prima, la donna è ancora bionda, è ancora gli occhi azzurri, è ancora una carnagione chiara e la bocca è di un rosso vermiglio, però questi topoi cozzano con la realtà, una realtà ben diversa, non è più bella, adesso è brutta, piena di efeli, di una bellezza fiamminga, giungevano le risa i motti brevi dei giocatori da quell'altra stanza, notate il contrasto, gli ultimi due versi, questo distico che è separato dalle altre strofe ed è interessante perché è un contrasto netto tra tutto ciò che ha pensato fino adesso, tra quel mondo in cui lui si era rinchiuso, dove si era sentito protetto e soprattutto felice per pochi attimi, quindi notate come il piacere sia davvero soltanto un'idea perché poi ripiomba nella realtà e la realtà è data da quelle risa che lo destano e lui ritorna alla vita e si rende conto però che la vita è tutt'altro che semplice, che beata, ma è opprimente e soprattutto dolorosa. Continueremo poi nella prossima lezione, andremo avanti con le altre sezioni della poesia. A presto!